Sono Raffaella Salmaso, 54 anni, risiedo a Rovigo in centro storico, sono insegnante, laureata in architettura e insegno tecnologia e storia dell'arte. Il mio impegno politico risale più di vent'anni fa, ho anche fatto l'amministratore in comune a Rovigo come assessore in due tornate, attualmente sono responsabile regionale delle donne democratiche del Veneto e mi sono candidata alla Camera dei Diputati per la circoscrizione Veneto 1. Se fossi eletto mi batterei essenzialmente perché il Polesine, o meglio all'interno del Polesine, ritorni ad esserci un dialogo tra istituzioni centrali e il nostro territorio. Questo per poter valorizzare insieme agli attori locali quelle che sono le peculiarità del nostro territorio e portarli naturalmente all'attenzione dello Stato centrale e poter rilanciare anche dal punto di vista economico e sociale quelle che sono le forze, soprattutto per i nostri giovani. Secondo me la cosa fondamentale per l'Italia, sulla quale poi si basa il suo futuro, è la scuola. La scuola fino ad ora è stata vista come un luogo di saccheggio del bilancio. Ci sono stati tagli trasversali e ovunque. Nessuno ha considerato che la scuola in questo modo viene penalizzata nella sua struttura, quindi come personale, nella funzionalità, quindi come progetti, nel monte ore e spesso in questo caso viene snaturata. Allora bisogna partire dalla concezione che la scuola è il luogo della formazione delle persone e se si formano le persone nella maniera corretta, secondo un loro sviluppo della personalità, ovviamente poi si ha anche un risultato rispetto alla società, alla sua crescita economica, alla sua crescita sociale e al riconoscimento di quelle che sono le parità tra uomo e donna, tra diversi attori della società, quindi diritti riconosciuti per tutti. Credo che gli italiani, i nostri cittadini di Rovigo siano stanchi di promesse che poi non vengano mantenute. Io credo che l'impegno che posso assumermi è quello di continuare a portare avanti la coerenza che ho sempre avuto nella mia azione politica e amministrativa, perché attraverso la coerenza posso continuare a parlare con la gente, raccogliere le loro istanze e portare queste istanze del nostro Polesine nei luoghi in cui si possono ottenere risposte e avere naturalmente quello che è un consenso poi per quanto riguarda i risultati nel nostro territorio.